Musica Buonasera da Ristorante Lo Scudiero Oggi abbiamo preparato mazzancolla mezza fritta, maionese di acqua di polpo, salsa gretto, salsa basca, puntarelle e alici Il piatto è un'ispirazione completamente mediterranea Abbiamo voluto utilizzare le mazzancolle, friggerle per metà dalla parte delle zampette che saranno come delle chips croccanti sotto il nostro palato Per poi sentire la succulenza e la dolcezza della mazzancolla Li abbiniamo come? Con una maionese di polpo Quindi prendiamo il polpo, l'acqua che è di cottura, la riduciamo, la filtriamo e la andiamo proprio a allungare come se fossero delle uova di una classica maionese Naturalmente questa maionese è senza uova, fatta con la proteina dell'acqua di polpo La salsa basca è fatta con le foglie delle puntarelle Quindi la parte esterna delle puntarelle tramite un fondo di olio, alici del cantabrico, cipolla, un po' di patata e dell'acqua affumicata È appunto puntarelle e andiamo a fare questa crema di questo amaro che contrasta con la dolcezza dell'acqua di polpo Quindi della maionese e della mazzancolla In più diamo un pizzico di salsa gretto che è fatto con pomodori, aglio, basilico Che vengono praticamente fatto questo cremoso di pomodoro Il piatto è di un'eleganza e di una vivacità senza precedenti Mazzancolla a mezza fritta, puntarelle, alici, salsa basca, maionese di polpo e salsa gretto Vi aspetto al ristorante Lo Scudiero per farvi provare questo piatto che sta facendo emozionare tutti i nostri clienti